Sì, sì, mi alzo, mi alzo, non c'è bisogno di mettere questa sveglia, ok? Ciao a tutti amici, non ero pronto? Ciao a tutti amici, sono Julian Pogel, come mi conoscerete tutti oggi vi mostro le mie abitudini mattutine, seguitemi, seguitemi! Come prima cosa mi sveglio e mi butto giù dal letto, beh, in effetti se sono molto assonnato ci arrivo con la testa giù dal letto, ma oggi è una buona giornata, quindi eccomi qua! Per prima cosa, quando sono giù dal letto, prendo il mio tablet per vedere qualche video Minecraft, quelli che piacciono a me, insomma, proprio così! Ma di solito, quando appena prendo in mano il tablet, ecco che arriva il papà! Arriva il papà e me lo prende dicendo, Julian non si guarda il tablet di prima mattina, muoviti e vestiti per andare all'asilo! E quindi finisce tutto l'idilio che io volevo fare alla mattina! A questo punto, una volta che non si può più utilizzare il tablet, vado in camera di mia sorella Anna, mi infilo sotto le coperte senza che lei si svegli o se ne accorga, e poi inizio a fare le scoregge e poi esco tutto che non se ne accorge neanche, vado di corsa al bagno per lavarmi e rinfrescarmi e quindi mi metto nella mia sessione quotidiana di scoregge... Ehi, questo è privato! Non filmare, non filmare! Dai, dai! Poi mi sposto al lavandino e mi lavo un po' la faccia per riprendermi, dopodiché passo in camera di mia sorella Emma e anche a lei devo lasciare un bel ricordino! Dopodiché posso andare finalmente in camera mia a vestirmi! Tutututu, tututu, tututu... Ehi, anche questo è privato! Ciao, ciao, ciao! Trick! Sono pronto e come vedete ho in spalla già il mio stupendo zaino che si intona perfettamente con i miei calzoncini e le mie scarpe! Me l'ha comprato un uovo di zecca la mamma e io lo adoro! A questo punto corro giù a fare colazione ragazzi perché ho una fame da lupi! Lascio il mio zaino per terra perché la mamma prontamente ci metterà dentro il panino per la scuola! E io intanto cosa posso fare? Beh, ovviamente prendo il tablet e poi lo lascio sul tavolo perché il papà mi uccide! Se vede che uso il tablet mentre facciamo colazione, sì, avete capito bene! Ma appena finita colazione posso mettermi finalmente sul divano con il mio tablettino! Cinque minuti? Ma che scherzate! Neanche venti secondi perché subito subito mi vengono a sgridere! E allora io cosa faccio per ammazzare il tempo? Cosa posso fare per cercare di far passare il tempo affinché papà sia pronto e mi porti a scuola? Beh, metto su il computer e una musica e ballo la Julian Dance! I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it! E ora sono felice e libero! Sono prontissimo! Per fare cosa? Beh, è ovvio, no? Per mettermi lo zaino in spalla? E andare? Beh, ecco, mi dimenticavo il bacio della mamma! Deve sempre fare queste cose da femmina, sì! Beh, come ne ho detto, appunto, mi dà un bacino e io sono pronto per andare! Ma non prima di essere passato in camera di mia sorella Anna per darle il buongiorno! Ora si può svegliare! E io me ne vado a scuola! Ciao a tutti ragazzi! Oh, 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 mi fa ancora male la pancia! Beh, corro all'asilo così inizierò a scorreggiare davanti a Emma! Anzi, alle mie due amiche! Ciao a tutti!